Benvenuti al ventiquattresimo incontro con la storia d'Italia. Prenderò in esame la campagna di Russia. L'argomento sarà esaurito con il successivo venticinquesimo incontro. Nell'estate del 1941 le truppe dell'asse Roma-Berlino occupavano l'Europa dall'estremo nord della Norvegia all'isola di Creta, dalla costa atlantica francese ai Balcani, mentre in Africa settentrionale si profilavano grandi successi. Il 22 giugno 1941, una giornata che oggi è una ricorrenza nazionale in Russia, alle ore 6.30 del mattino l'esercito del Terzo Reich attacca l'Unione Sovietica. Scatta l'operazione Barbarossa. Dal Mar Baltico al Mar Nero, su un fronte di 1.800 chilometri, 145 divisioni tedesche irrompono su tre fronti. L'Eningrado per il dominio assoluto del Baltico, Mosca per colpire il cuore dello Stato, Kiev e Caucaso per impadronirsi delle ricchezze agricole, minerarie ed industriali. Hitler vuole liquidare rapidamente la Russia come ha fatto con Polonia, Belgio, Francia, Danimarca. Tale piano non prevedeva l'iniziale partecipazione italiana, ma solo quelle di Finlandia e Romania, paesi confinanti con la Russia. Hitler cercò di dissuadere Mussolini dal suo proposito di partecipare alla guerra, suggerendogli di rafforzare gli effettivi nel Nord Africa, in quanto in quel teatro la guerra non aveva preso una piega favorevole. Forse la ragione principale che spinse Mussolini a partecipare alla campagna di Russia fu il timore che, dopo la vittoria tedesca e dei suoi alleati, l'Italia e lui stesso avrebbero perduto prestigio. Il mattino del 2 giugno 1941, Mussolini, venuto a sapere dell'inizio delle operazioni contro l'Unione Sovietica, diede immediatamente disposizioni al Capo di Stato Maggiore, Generale Ugo Cavallero, di procedere ai preparativi riguardanti l'allestimento del Corpo di Spedizione e di consegnare la dichiarazione di guerra all'ambasciatore russo in Italia. Il Duce ebbe via libera da Hitler di distaccare truppe sul fronte orientale e la grande unità destinata ad operare con le truppe tedesche assume la denominazione di Corpo di Spedizione Italiano in Russia, a cronimo CSIR, affidata al Generale Francesco Zingales, quasi subito sostituito per motivi di salute dal Generale Bersagliere Giovanni Messe, che abbiamo incontrato parlando della guerra in Africa settentrionale. Questo Corpo d'Armata, oltre al quartiere generale ed unità alle sue dirette dipendenze, disponeva di tre divisioni, la Torino, la Pasubio e la terza divisione Celere, Principe Amedeo Duga d'Aosta, nella quale era inquadrato il terzo reggimento bersaglieri del colonnello Aminto Caretto e dal marzo 1942 anche il sesto reggimento bersaglieri comandato dal colonnello Umberto Salvatores, che rifiute il comando della scuola allievi ufficiali di Pola per restare con il suo reggimento. Va precisato che le prime due divisioni che sulla carta erano motorizzate non avevano però i mezzi sufficienti per gli spostamenti, cosa che si sopperì solo per la Pasubio, che potè utilizzare gli automezzi di un autogruppo, e ciò caratterizzò il destino della Torino, la quale dovette marciare per migliaia di chilometri. Il carattere ideologico della guerra impose inoltre la presenza della 63esima legione camicia nera d'assalto, tagliamento di circa 2000 uomini al comando del consule Niccolò Nicchiarelli. La forza complessiva è di 62.000 uomini. Fu inoltre schierato un contingente della reggia aeronatica con 83 velivoli e della reggia marina con 10 massa, 6 sommergibili da scavili e circa 10 motoscavi siluranti che operavano sia nel Mar Nero sia nel Mar Dazov per interdire il traffico navale russo destinato ai rifornimenti dei combattenti. L'invio del corpo di spedizione, come già detto, aveva soprattutto un valore politico e rappresentava la volontà di Mussolini di difendere il suo ruolo di principale alleato della Germania in una campagna che si prospettava trionfale. Pochi mesi dopo, però, il quadro della situazione era mutato e l'offensiva tedesca, nonostante avesse raggiunto notevoli successi, non fu decisiva e iniziò a registrare perdite. Fu quindi la Germania a richiedere un aumento delle forze italiane in Russia per il 1942 e Mussolini fece affrontare l'ottava armata o armate italiane in Russia, acronimo ARMIR. L'armata, comandata dal generale Italo Gariboldi, era articolata su trentacinquesimo corpo d'armata, che era in sostanza il corpo di spedizione avendo cambiato denominazione, sempre comandato dal generale Messe. Secondo corpo d'armata del generale Giovanni Zanghieri, che inquadrava le divisioni di fanteria Sforzesca-Ravenna-Cosseria. Quarto corpo d'armata alpino del generale Gabriele Nasci, che inquadrava le divisioni Tridentina-Iulia-Cunense. Fu assegnata anche la divisione di fanteria Vicenza, comandata dal generale Edelvoldo Pascolini, rinforzata da un battaglione di carabinieri e mandata a funzioni di protezione, controllo del territorio, operazione di repressione dei partigiani. Erano inoltre disponibili due raggruppamenti di camicie nere, 23 marzo e 3 gennaio. In totale l'ottava armata contava circa 230.000 uomini. L'ARMIR fu dotata del meglio di cui il reggio esercito potesse disporre e le divisioni, seppur carenti in mobilità e potenza di fuoco, mancando la componente carri armati che avrebbe potuto ampliare il raggio d'azione, andarono a fronte con equipaggiamento al completo. Come si può ben capire, tutto lo sforzo bellico era proiettato nella campagna di Russia, a discapito delle concomitanti operazioni in Nordafrica, dove le forze italiane erano in difficoltà. Fatta questa lunga ma doverosa premessa, per inquadrare bene lo scenario, al fine di una più agevole comprensione, passiamo a descrivere, senza addentrarci troppo molto, le operazioni che dal 1941 al 1943 hanno caratterizzato questa campagna. Per rendere più fluida alla trattazione si è pensato di articolare le vicende occorse nel periodo dell'esame in quattro fasi, di cui due verranno esaminati in questo incontro e due nel prossimo. Formati in contingenti in Italia, lo stesso fu trasferito in un mese in Ungheria e successivamente in Romania, da dove si sarebbe poi diretto verso il fronte, che si può dire iniziasse dal fiume di Nester in Ucraina. Va precisato che l'Ucraina era territorio russo, anche se i dissidenti interni erano molti. Tanto è vero che ben 30.000 ucraini si arruolarono nella Waffen-SS tedesca in funzione anti-bolcevica e anti-russa. Solo nel 1990 il nuovo Parlamento ucraino adottò la dichiarazione di sovranità e di autodeterminazione ucraina. Completato il suo schieramento, il corpo di spedizione fu inquadrato inizialmente nella undicesima armata del generale Hugen Ritter von Scobert, ma posto alle dipendenze del gruppo corazzato di Paolo Ludwig Ewald von Kleist. Il generale Messe si rese subito conto che sarebbe stato impossibile mantenere le tabelle di marcia degli alleati. Infatti, quando il 5 agosto l'intero corpo di spedizione raggiunge Botosani in Romania, quasi a confine con l'Ucraina, l'undicesima armata tedesca aveva già compiuto un balzo in avanti di 300 km per schierarsi lungo il fiume di Nester. Il generale Messe ricevette l'ordine di procedere per altri 200 km e schierarsi come forza di riserva del fronte del di Nester. Il comandante italiano, constatato l'impossibilità di muoversi speditamente con l'intero corpo, dal momento che la maggior parte dell'unità era appiatata, diede l'ordine di proseguire alla sola divisione Pasubio, rinforzata da una compagnia di bersaglieri motociclisti del III Regimento. Quando la Pasubio arrivò in zona di operazione tra il fiume di Nester e il fiume Bug, era in corso l'annientamento delle forze russe accercate dalle truppe tedesche. Ai motociclisti della compagnia bersaglieri, spetta l'onore del primo combattimento. La battaglia di Petri Kovka del 28-30 settembre 1941 che ne consegue mette in luce tutti i reparti del corpo di spedizione che con brillante manovra a Tenaglia rinserra migliaia di prigionieri ed induce lo stesso Stani a modificare il suo giudizio sull'efficienza e sulle qualità del soldato italiano. Dopo aver attraversato il fiume di Neper, il gruppo corazzato del generale Kleist riceve il compito di raggiungere la costa del Mardazzov passando da sud per poi avanzare verso est e conquistare Rostov sul fiume Don ed il bacino del Donek, noto anche come Donbass, centro importante per l'industria bellica sovietica. Il corpo di spedizione italiano fu incaricato di coprire il fianco sinistro della unità tedesca e partecipare attivamente all'offensiva nel Donbass. I reparti furono sensibilmente ostocolati dalle forti piogge e dai terreri tramutati in pantani fangosi che fanno impantanare sia i rotati sia i cingolati e compromettono l'arrivo tempestivo dei rifornimenti. L'obiettivo primario era prendere Stalino nell'Ucraina meridionale che è un importante centro ferroviario ed un grande centro siderurgico. Il 4 ottobre la Cerra e la Pasubio furono le prime a muoversi precedute in avanguardia dal terzo reggimento bersaglieri. Qui le truppe italiane hanno riportato una grande vittoria nonostante la fiera resistenza dell'esercito russo. L'operazione si conclude il 29 ottobre. I prossimi obiettivi fissati dal generale Messe alla divisione Celere in cui è inserito il terzo reggimento bersaglieri sono Ricovo, Irta di ciminiere, di fonderie e di raffinerie e poi ancora Conlovka e Nikitovka. La missione è compiuta a costo di gravi perdite da parte della divisione. Presso il comando si scavano le fosse per i compagni caduti e il cimitero è interamente dedicato ai bersaglieri e Don Mazzoni, coppellano del terzo reggimento bersaglieri e già medaglia d'oro nella prima guerra mondiale, celebra il sacrificio divino benedicendo i morti e i vivi che ancora morranno ed elevando al cielo una preghiera. Signore mio padre, Dio aiutimi a superare la stanchezza, la paura e la fame. Ho bisogno di te, sto morendo, ma prima che ciò accada voglio essere sicuro che mi accoglierai a braccia aperte. Prega per me, per noi. Ma succedono anche cose strane che divertono un po' tutti. Alcuni bersaglieri della seconda compagnia del venticinquesimo bersaglieri in avamposto vedono una grossa lepre. Bisogna catturarla per dare un po' di pace allo stomaco affamato. Alla chetichella si avvicinano a dei ruteri, ma la repre più furba entra in un abituro e subito i bersaglieri a seguirla. Chi vi trovano? 16 soldati russi che all'apparire dei bersaglieri si arrendono. Burle e scherni contro i maldestri cacciatori perché si sono lasciati scappare una così squisita preda, portando in cambio un plotone di prigionieri con i quali bisognerà dividere quel poco di pane raffermo a disposizione. I russi sono arretrati innanzi alla travolgente valanga italo-tedesca per tutto l'autunno del 1941 facendo il vuoto alle spalle. Ciò rientra nei piani di Stalin e nella logica delle cose vista la potenza della guerra lampo imposta dagli attaccanti tedeschi. Ma l'inverno in modo particolare si rivela ben presto quel generale molto più pericoloso degli stessi cannoni. I calcoli dei tedeschi si sono rivelati sbagliati e tutto l'apparato militare volto a una guerra di movimento deve ora fermarsi in modo inesorabile. Fin dal 27 novembre 1941 era iniziata la grande offensiva russa che si estendeva dal golfo di Finlandia al Mar Dazzo ed aveva fermato i tedeschi davanti a Leningrado e distrutto l'intero corpo d'armata del generale Guderian a Rostov. L'alto comando tedesco annunciò che tutte le operazioni erano temporaneamente sospese. La colossale operazione Barbarossa era fallita. Il corpo di spedizione installa al momento la sua base operativa a Stalino e i genieri italiani predispongono la loro zona di occupazione con alloggiamenti e opere difensive in funzione del turinverno e dell'offensiva russa. I giorni del Natale del 1941 in Russia saranno sempre celebrati nella storia del corpo del bersagliere. Il 25 dicembre è la data vermiglia di gloria per il terzo reggimento bersaglieri e per tutti coloro che inquadrati nella divisione tagliamento con il terzo combatterono e si sacrificarono. Per dare un rapporto di forza si può dire che ogni divisione italiana ridotta per le perdite subite nei precedenti combattimenti deve affrontare quattro divisioni ben agguerrite ed armate di russi ed alleati. I battaglioni del terzo presidiano quattro capisaldi, il più avanzato dei quali è quello di Ivan Orlovka, difeso dal diciottesimo battaglione del maggiore al ceo Ercolani. Il diciottesimo incomincia ben presto, quell'epopea che gli varrà poi la qualifica di battaglione martire. Verso le nove la situazione del diciottesimo appare già critica. Assalito com'è sui trellaggi dello schieramento difensivo che il comandante di battaglione ha in precedenza organizzato intorno al villaggio. A nulla vargono le richieste di concorsi in quanto tutti i battaglioni, compresi il ventesimo che è in posizione arretrata e attaccato. Ma si tiene duro ugualmente fino alle tre del pomeriggio. Dopo nove ore di astenuante combattimento i resti del battaglione troveranno il rifugio tra le camicie nere della divisione tagliamento nel retrostante paese di Mikhailovka. L'offensiva russa del giorno di Natale si sviluppa anche sullo schieramento di destra del terzo dove si difende il battaglione motociclisti composto da due sole compagnie di bersaglieri che per quanto decisi non possono opporre un'infinita resistenza. La lotta deve comunque continuare al punto in cui è stata lasciata con l'intervento della sera gelida. È il giorno di Santo Stefano, bisogna ora che i reparti cercano di riorganizzarsi. Per buona sorte possono ora entrare in funzione anche alcuni reparti tedeschi che sino a questo momento siano tenuti in riserva. Occorre ripristinare le posizioni cadute in mano del nemico il giorno di Natale. Entreranno in azione i bersaglieri del terzo affiancati dalle camicie nere e fanterie corazzate tedesche. È il colonnello caretto stesso che alla testa di una colonna che comprende le parti della Wehrmacht muove alla riconquista delle posizioni perse sotto una sferza di vento gelido che tocca i 30 gradi sotto zero. La battaglia di Natale chiusa a capodanno 1942 circoscrive in questo modo un ciclo di operazioni dure e spietato per i nostri pur vittoriosi soldati. Essi hanno subito perdite notevoli, ma anche il nemico ha lasciato sul terreno migliaia di morti. Tra le alterne vicende della guerra, su tutto il fronte i contendenti si prendono ora un certo respiro. Il piano Barbarossa non si è certamente tradotto in un successo anche se qualche obiettivo è stato raggiunto. Dall'Italia aggiungono i complementi del terzo reggimento e l'intero sesto reggimento bersaglieri, rimpatriato dalla Jugoslavia, il 15 novembre 1941 si era prontato in sede a Bologna. Lasciate le vecchie biciclette, diventa autotrasportabile. Il loro impiego in Russia è nella divisione Celere e il 16 marzo 1942 è schierato accanto ai bersaglieri del terzo di Caretto. Il sesto è comandato dal colonnello Umberto Salvatores. Da febbraio fino alla metà di giugno 1942 si attraversa un periodo di relativa calma, anche se sulla linea del fronte continuano le attività di battugliamento e non mancano i duelli tra le opposte artiglierie. Come si è notato, le unità italiane erano inferiori a quelle tedesche per potenza di fuoco, mobilità e comunicazioni. Tuttavia il comando tedesco ha lodato il comportamento delle divisioni italiane. Si conclude il ventiquattresimo incontro con la storia d'Italia.